ci siamo ragazzi partita qualche istante di ritardo perché mi ero dimenticato di sistemare la linea telefonica per cui quando è partita la prova ero lento adesso ci siamo saluto franço a utente abbonato da 27 mesi grazie 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 infinite franço a per il tuo sostegno vedo intanto un po di messaggi che mandano gli ok renato iolando jacqueline pietro flora giuseppe edo sergio anto michele michele guido aldo mario flora di nuovo flora per quella cosa che mi ha chiesto in chat e siccome google foglie un programma diverso da excel evidentemente il tasto rapido a f4 non fa lo stesso la stessa cosa che fa in excel e quindi o c'è un altro tasto rapido oppure semplicemente non lo fa in sostanza e quindi bisogna scrivere a mano il valore assoluto allora dai direi che tutto va bene la linea mi sembra a posto quindi passiamo alla visualizzazione di tutto quanto intanto vedo che ho delle cose aperte che devo chiudere meglio che le chiuda prima e siamo pronti a partire quindi devo andare qui e devo fare così eccoci ciao amici di associazione culturale maggiolina bentornati sul canale youtube di nuovo di associazione culturale maggiolina alla nostra diretta settimanale mercoledì ore 18 siamo in diretta eccoci qua a parlare di computer vi devo dire un paio di cose in più del solito questa sera quindi partiamo subito allora innanzitutto ho appena fatto un aggiornamento di windows sapete che ogni tanto c'è l'aggiornamento di windows ho fatto l'aggiornamento ho spento e riavviato il computer è andato tutto bene meno male devo dire che sta andando tutto bene da un po di tempo ma diciamolo piano perché così siamo sicuri che tutto va bene la cosa che mi sono dimenticato di fare è quella di fare il salvataggio dei driver prima di un aggiornamento se ne ho coscienza devo fare il salvataggio dei driver cioè di quei software che servono al mio computer per far funzionare le componenti interne perché a volte windows in uno dei suoi aggiornamenti cambia quei driver pensando che siano meglio e magari sono anche meglio ma non sempre e non per tutti i computer quindi se ti cambia un driver e quindi questo programmino nel tuo computer che serve per fare una cosa e quel nuovo quel nuovo programma che viene messo quel nuovo driver che viene messo non è adeguato il tuo computer funziona male o non funziona quindi meglio fare un salvataggio dei driver mi sono dimenticato di farlo prima lo faccio adesso ho la mia icona qui sul desktop sa tasto destro del mouse esegui come amministratore e questa schermata nera mi sta chiedendo se voglio consentire questo dispositivo di portare modifiche si parto ed ecco qui il salvataggio dei driver in diretta così intanto mi sono ricordato di farlo come faccio a ottenere questa cosa qui come è stata organizzata tutto questa cosa lo abbiamo visto tempo fa in un video e andiamo a vedere questo video sono andato sul sito amici di Maggiolina il sito è riservato agli amici sostenitori di associazione culturale Maggiolina quindi agli amici delle super chat dei super sticker dei super grazie che potete fare su qualsiasi video e ne arrivano anche durante la settimana grazie infinite e gli amici abbonati gli amici che ci sostengono via paypal o via banca grazie ragazzi per noi è importantissimo se è la prima volta che ci sostenete fate un salto nel sito associazione maggiolina.it pagina amici quindi quando siete in associazione maggiolina amici lì ci sono tutte le istruzioni per essere dei nostri per entrare nel sito amici di maggiolina ok allora stavamo dicendo discorso del salvataggio dei driver quindi devo andare nel sito amici di maggiolina a cercare il video il nostro motore di ricerca video personalizzato è questo driver è una delle cose già scritte da tempo perché questo video lo vediamo spesso cerco il video in cui parlo dei driver e parlo nei driver vediamo un po in in vari video quello che ci interessa particolarmente questo 176 salva i driver tutte le volte che puoi perché è importante ti togli dai pasticci poi eventualmente dice ok li ho salvati ma se devo recuperarli video numero 177 quello successivo ti fa vedere come fare ma in realtà capiterà raramente di doverlo fare ma se quando capita tu non li hai sono dolori perché è un problema lungo ciao aldo grazie di essere qui con noi bravo che hai disegnato la riga in chat così non devo ricordarmi io di farlo perché mi sarei già dimenticato e siamo pronti quindi discorso driver fatto lui ha già finito se adesso torno sul desktop ha già finito impiega un istante ora una copia dei driver di quando il mio computer era funzionante oggi è funzionante al cento per cento copia dei driver cosicché se devo tornare a un driver precedente per malfunzionamento o questo di oggi ok poi cos'altro volevo dire assi vedo il messaggio di di andrea qui che mi fa ricordare intanto lo saluto c'è andrea mi fa ricordare edo non so perché forse perché ho letto male senza occhiali Svegliamo un mistero finalmente il nostro uno dei nostri moderatori edo ci svela un mistero un mistero che ci ha tenuto in ballo per un po di tempo in pratica il nostro amico edo non leggeva i miei commenti in chat quindi lui mi scrive qualcosa in chat questa di adesso che stiamo usando io rispondo e lui non legge neanche uno dei commenti in risposta a lui ma anche a tutte le altre persone quindi lui vede tutta la chat tranne che quello che ho scritto io allora abbiamo ragionato sul fatto che questa cosa poteva essere legata solo a un bloccaggio nel senso mi hai bloccato edo accidentalmente o quello che è mi hai bloccato e però lui diceva beh io ti ho bloccato ma il canale youtube non è che pubblico video che ho cose eccetera quindi che posso avere bloccato il commento come posso avere fatto beh da moderatore potresti probabilmente aver bloccato schiacciando facendo la moderazione magari hai provato sul mio sul mio messaggio hai messo blocca e lì sono stato bloccato però in realtà poi lui non riusciva a sbloccarmi non mi trovava nel suo canale youtube non mi trovava ma non so neanche se carica dei video quindi se abbia un canale youtube sappiamo che magari ce l'abbiamo se state seguendo la serie di creare e gestire un canale youtube magari scoprite che ce l'avete poi non lo usate ma sapete com'è e come si può eventualmente gestire quindi magari ce l'ha senza saperlo eccetera però insomma è daniele non riesco a sbloccarti come facciamo lui ha trovato la soluzione non so come ma l'ha condivisa e io adesso la condivido a voi per me era una cosa nuova mai vista allora come ha fatto a sbloccarmi dice ma io non ho il canale youtube oppure non lo so dove ti sblocco si va qui allora nuova scheda sono in google sono loggato con l'account in questione quello che non riceve eventualmente i commenti o quello di cui voglio controllare un eventuale bloccaggio premo sul simbolo dell'account eccomi qua vado su gestisci il tuo account google premo entro nella gestione generale dell'account attenzione qui facciamo le cose come si deve leggiamo eccetera non è facile fare guai perché se stai per fare un guaio te lo dice ma sei sicuro e tu dici ma sì ma lui ma sei sicuro e allora tu devi cominciare a dirti ma aspetta forse sto facendo un guaio ok quando il computer ti chiede ma sei sicuro pensaci un attimo comunque siamo arrivati nell'account protezione no persone e condivisione persone e condivisione premo qui tra le varie cose c'è bloccati se premo qui sopra e qui io vedo già che non c'è nessun utente bloccato premo lì sopra e nessun utente è bloccato e quindi siamo a posto questa è una cosa diversa dal canale youtube nel senso che io ho controllato con l'account di associazione maggiolina quello che utilizzo per il canale youtube dove so di avere bloccato varie persone quindi in youtube alcuni utenti da da me sono stati bloccati qualcuno dei moderatori sono stati bloccati perché serviva così molte persone magari mandano messaggi di spam si chiama quindi pubblicità a siti strani cose varie quindi quelli lì quando fanno un messaggio di questo genere per evitare che si ripeta la cosa vengono bloccati e i loro commenti non si vedono più e siamo a posto così quegli utenti io li posso bloccare dal dal canale youtube e sbloccare dal canale youtube e basta quindi gli utenti che ho bloccato sul canale youtube possono essere sbloccati dal canale youtube mentre invece qui no quindi se io vado in associazione maggiolina e faccio questo giro qui non ho degli utenti bloccati in realtà è sempre quello con nomi diversi qualcuno con nomi diversi che si ingegna per per appunto mandare cose in quel modo lì però non ci sono tutti gli altri quindi quelli che ho bloccato su youtube restano su youtube e restano bloccati la quelli che sono stati bloccati personalmente in questo caso come è successo a edo vengono bloccati sui commenti sulle cose qui adesso decidiremo bene cosa ma anche su youtube quindi ecco perché edo non riceveva il messaggio edo non riceveva i miei commenti non li vedeva perché mi aveva bloccato e quindi da qui ha potuto tirarmi tirarmi fuori allora è la persona che ho bloccato io quindi gli utenti multipli di questa persona che ho bloccato io e chi è finita qua come ho fatto a bloccarla e perché l'ho bloccata perché mi mandava condivisioni in google drive quindi in definitiva se io ho il mio account google vado in google drive google drive qui posso una volta che sono in google drive condividere dei documenti delle foto qualcosa con altre persone perché che so ad esempio i viaggi qui stiamo facendo nel nel corso google fogli stiamo facendo i nostri le nostre spese di viaggio eccetera ormai lì abbiamo finito cambieremo cambieremo foglio faremo le spese di casa presto se io voglio posso condividere un documento qui con condividi con un'altra persona perché quella persona lì diciamo può essere interessata magari siamo d'accordo lavoriamo insieme oppure che ne so mi ha chiesto glielo mando eccetera la condivisione serve per far vedere anche a quella persona un documento se però qualcuno condivide con te cose con google drive per errore o perché vuole così ma a te non interessano e quindi tu ti dici vabbè ma ok basta non mi serve vedere questa cosa quando tu ricevi l'email di condivisione perché se io adesso qui scrivo un indirizzo email e poi dico fine per dire perché glielo condivido quindi vado avanti per dire condivido quella persona riceve un'email e può andare a vedere questo documento però quella persona se si scoccia di ricevere documenti che non gli interessano nell'email anche la funzione blocca questo utente quindi bloccando quell'utente quell'utente che condivide cose con te e che non vuoi quell'utente finisce nei bloccati che abbiamo visto prima quindi nel mio account condivisione persone condivisione utenti bloccati quindi edo adesso fatti il ragionamento per sapere come può essere andata questa storia questo è un motivo e vi invito ad andare a vedere se avete persone bloccate secondo me non ne avrete o pochissime già io che appunto ho il canale youtube praticamente sui miei accanto non ho niente di bloccato salvo appunto su quell'associazione maggioline va bene e qui siamo siamo a posto con questo discorso poi leggerò anche le domande vedo anche la tua domanda flora poi finito l'argomento andrò a leggere il discorso allora qui chiudiamo e vediamo invece quello che è l'argomento di oggi che secondo me è importante adesso ci ragioniamo nuovi salvataggi nuovi salvataggi sta a significare il nuovo modo di salvare i nostri documenti che stiamo scoprendo che è sempre più diffuso è spesso legato alla nuvola questo nuovo modo quindi già siamo in argomento nuvola dalla settimana scorsa per cui questo viene a fagiolo capita proprio a fagiolo ma in realtà secondo me è anche una nuova tendenza allora in pratica il nuovo modo di salvataggio il nuovo modo di salvare i documenti è automatico tu non ti devi preoccupare di niente e lo facciamo subito e così vediamo questa cosa e uno diceva beh siamo a posto così non ci devo più pensare in realtà no porta più svantaggi che vantaggi però è così adesso allora vediamo la condizione tradizionale in modo che così capiamo bene qual è il discorso ed è importantissimo il salvare è una delle cose principali del corso di computer ed è importante per sapere usare il computer se non lo sai fare perdi solo del tempo perdi un sacco di tempo allora io scrivo qualcosa apro un programma di scrittura che può essere wordpad apro il programma scrivo prova di salvataggio e questo documento non è salvato è qui se io chiudo il mio computer chiudo questo documento spengo il computer lui prima dice ma non l'hai salvato le vuoi salvare oppure no se io dico di no perdo tutto diversamente devo salvare quindi il salvataggio è a mia discrezione e a mia responsabilità se mi dimentico lui me lo ricorda e quindi siamo tranquilli ma va bene così quindi io lo salvo premo sul dischetto salva quindi azione mia nel momento in cui voglio io ho scritto due parole salvo potrei aver scritto per cinque ore e salvare tra cinque ore se volessi quindi salvo quando voglio io scelgo il nome del documento lo chiamo prova e scelgo la destinazione lo metto in documenti sono già in documenti in realtà quindi dentro documenti con nome prova salvo questo documento e adesso qui c'è scritto prova vuol dire che il documento è salvato per cui se io in un secondo momento vado in explorer file e poi vado in documenti eccolo qua che vado a cercarlo documenti trovo prova lo apro e sono a posto adesso nasce un nuovo discorso se io dopo che ho salvato il documento in qualsiasi momento eccetera proseguo nel lavoro quindi scrivo di nuovo altre cose quindi continuo a scrivere e scrivo 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 faccio a sistemo tutto la parte nuova quindi questa non è salvata nel mio computer fin tanto che io non vado a premere su salva quindi di nuovo deve essere volontà mia quella di salvare ciò che sta facendo ciò che sto facendo e questa cosa ha come controindicazione che se io mi dimentico dopo aver salvato la prima volta di salvare quello che segue o se io scrivo per tre ore poi salta la corrente mi si spegne il computer così prima che io abbia salvato perdo tutto mi resta solo il primo salvataggio e quindi mi dico caspita 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 mi sono sbagliato dovevo salvare più spesso tant'è che chi usa il computer per lavoro ogni tanto salva nel senso faccio le mie cose scrivo aspetta che devo rispondere al telefono prima di rispondere al telefono salvo e quindi ho l'automatismo di salvataggio dei documenti e di qualsiasi cosa documenti immagini impaginazioni video quello che è perché così la situazione a posto adesso è a posto salvo fatto e sono bello contento se poi vado avanti a scrivere quindi scrivo ancora e faccio un pasticcio dico ah no ho fatto un disastro vabbè chiudo il documento senza salvarlo perché comunque quello che ho salvato era a posto quindi se faccio un pasticcio da qui in avanti posso sempre chiudere il documento e ritorno a quello che avevo salvato per cui butto via solo gli ultimi minuti di lavoro volutamente perché ho fatto un pasticcio tale che non riesco a sistemare e invece di star lì a cercare di capire come sistemare chiudo senza salvare e amici come prima quindi questo è il modo classico di salvare adesso con l'avvento della nuvola ma anche per venire incontro secondo me alle persone che questa finezza non ce l'hanno nel senso che ma inizio a scrivere faccio qualcosa non so neanche se ho salvato dove ho salvato eccetera ci pensa il computer quindi fa lui in automatico vediamo discorso nuvola perché è lì che si vede principalmente questa cosa può essere dovuta anche a una questione tecnica nel senso il salvataggio automatico può essere dovuto oltre che un diciamo un aiuto per l'utente anche per una questione tecnica allora vediamo questa cosa premo il più vado sulla nuvola di google ma vale lo stesso per tutte quante le nuvole microsoft eccetera tutte quelle che ho visto finora premo sulle app di google vado in drive o da qualche parte io sono qui questo è la mia nuvola voglio scrivere un nuovo documento vado su nuovo documento google quindi scrivo qualcosa eccomi qua e scrivo prova cos'è che abbiamo detto prove tecniche prove tecniche di salvataggio io qui mi dimentico di salvare io chiudo tutto perché non c'ho in mente non bisognava salvare la caspita chi è che lo sapeva nella vita reale hai perso tutto diciamo nel modo di prima anche se non ti faceva chiudere ti diceva sei sicuro vuoi chiudere in qui invece no ha chiuso e ciao adesso quando io torno dentro quindi adesso stiamo vedendo un vantaggio di questa cosa qui quando io torno dentro e vado su google drive il mio documento c'è è stato salvato presumibilmente se gli ho dato abbastanza tempo spero di sì ma dove sarà finito allora mi guardo attorno eccolo qua documento senza titolo se io ci premo sopra due volte ritrovo quello che ho scritto prima allora quindi ha salvato il mio documento io non mi sono preoccupato di salvare ha salvato lui dove sulla stessa nuvola che stavo usando quindi è stato salvato sulla nuvola non può salvare nel mio computer per questioni tecniche secondo me e salva direttamente sulla nuvola questa può essere una facilitazione perché tu non devi salvare ma può essere anche una ragione tecnica metti che salta la connessione internet metti che c'è un qualcosa un problema sempre internet nella nuvola che almeno quello che stavi facendo è stato salvato quasi tutto perché facciamo attenzione guardiamo in questa posizione qui qui dove c'è questo questa nuvola con il baffetto se io scrivo ciao lui fa salvataggio dopo qualche istante ha salvato quindi quando qui c'è scritto salvato in drive poi va via e c'è la nuvola e basta è stato salvato se scrivo buonanotte buonanotte lui dopo qualche istante salva automaticamente questo comporta uno svantaggio se che qui è poco è poco visibile si vede poco ma in altre situazioni di uno svantaggio pesante comporta lo svantaggio che se io mi dico ho sbagliato ma no ho fatto un disastro caspita non sono neanche capace di tornare indietro non posso chiudere o meglio posso chiudere ma tanto il documento è stato salvato quindi io non ho la versione sana del documento perché lui lo salva man mano che io lo scrivo quindi questo è uno svantaggio e in certe circostanze è pesante come svantaggio adesso vedremo qualche circostanza per esempio allora vado di nuovo in google drive a cercare il mio documento quindi il primo svantaggio è che lui comunque ha salvato il documento anche facendo tenendo i disastri quindi non ho la copia prima è vero che se io faccio un disastro posso recuperare tornando indietro posso premere questo tasto per dire annulla e quindi annullo il disastro qui adesso è rimasto di perché ho scritto di disastro in due momenti diversi e posso tornare indietro ancora e quindi ho annullato il disastro in realtà però questo tornare indietro non è infinito e non è per tutto quindi ci sono delle volte che tu fai il disastro e questo tasto non ti permette di tornare indietro per questioni tecniche perché il documento è già stato salvato quindi perdo la possibilità di tornare alla versione precedente sana del mio documento perché quello nuovo è stato salvato automaticamente però il vantaggio che è stato salvato automaticamente quindi è una bilancia la cosa devo sapere come funziona questa cosa e gestirmi di conseguenza poi vedremo e quindi siamo qua questo è il primo disagio se vogliamo che vedo io l'altro è questo che tutte le volte che io apro un nuovo documento quindi faccio documento google fogli magari scrivo qualcosa oppure no che so faccio uno spazio eccetera questo documento è salvato quindi se io dico ma no ho cambiato idea perché l'ho scritto ma no non voglio salvare però me lo ritrovo un documento senza titolo vuoto ci clicco sopra due volte è vuoto ma quando è che ho fatto sta roba qua ma come salta fuori perché devo stare attento quando creo un documento se digito qualcosa ma faccio una virgola perché poi dopo dico no 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 questo viene salvato lo stesso anche se è vuoto perché io l'ho toccato l'ho modificato l'ho toccato e quindi viene generato un documento senza titolo perché se io volessi il titolo dovrei scrivercelo dentro ma dato che io magari questa cosa non l'ho pensata lo chiudo pensando di essere a posto è vuoto non ho fatto niente come era com'è in passato com'è nell'altra situazione io invece qui mi trovo un documento senza titolo che poi va cancellato qui tre pallini e poi rimuovi quindi i documenti senza titolo capiterà che ti si ti si accumulano perché c'è questo fattore ok allora anche questo lo cancello tre pallini rimuovo vanno nel cestino della nuvola stanno lì 30 giorni finché poi non vengono svuotati subito cioè finché poi non vengono eliminati a meno che l'utente non prema svuota cestino questo poco male perché tanto occupano poco spazio lo svuoto comunque il cestino elimino definitivamente così abbiamo visto anche questa cosa qui allora e questa è la tendenza delle nuvole google drive e anche one drive che ha diciamo word online excel online crea questi documenti automaticamente sulla nuvola con un nome o vuoto o un nome fittizio che danno loro magari prendono la prima la prima parola che tu hai scritto e danno il nome a quel documento lì comunque con un nome non adeguato a meno che tu non intervenga se tu intervieni e scegli il tuo nome scegli il nome del documento non ha senso dare il nome ai nostro nome ai documenti nel senso che i principianti spesso quando vengono al corso di computer gli dico bene abbiamo scritto alla lettera salviamo ah lo chiamo daniele ah lo chiamo franco no lo chiami con il contenuto in un modo che ti faccia capire il contenuto perché tu sei sempre daniele sei sempre franco tutte le volte che scrivi un documento daniele daniele 1 daniele 2 daniele 3 daniele 4 come li distingue poi questi documenti cos'è uno cos'è l'altro quindi gli dai un nome congruo questo è un discorso che mi sento di dire sempre che non fa mai male ok quindi questo è il primo problema e no sono i due problemi questo è il modo di lavorare della nuvola questa cosa si sta allargando e lo vedo ad esempio nei programmi di video editing quindi si sta allargando un po sempre un po di più facciamo un esempio in clipchamp che abbiamo tutti sui nostri windows 10 e 11 clipchamp microsoft clipchamp serve per evitare i video magari non ti interessa però adesso lui funziona così e anche altri programmi funzionano così e anche altri programmi futuri funzioneranno così quindi il concetto del salvataggio automatico vabbè qui lo vediamo in clipchamp ma si espande anche in altre aree dove magari ti interessano qui se vado in tutte le app trovo tutte le applicazioni su del mio computer e alla M di microsoft clipchamp eccolo qua così sai anche come si apre apro clipchamp clipchamp è un programma per creare dei video ok quindi tu puoi montare dei video che hai registrato puoi registrare dei video puoi fare delle cose guarda qua ci sono un po di video che io ho registrato eccetera qui io mi trovo sempre della roba in più perché se io faccio crea un nuovo video quindi sono qui di qua creo un video nuovo e poi dopo ci penso poi mi dicono mi chiamano vieni a mangiare mi urlano da in fondo alle scale e quando mi urlano bisogna che corro subito quindi dico dai ciao facciamo dopo prima mangio e poi faccio quello è un file nuovo nel mio clipchamp quindi quando vado qui e torno in clipchamp ne trovo uno vuoto e se non sei attento a queste cose qui poi non riesci più a distinguerli poi non li puoi più cancellare perché dici ma questo cos'era è vuoto perché sono andato a mangiare non ho fatto niente o qui è senza titolo e quindi non ha un nome ma dentro ci sono delle cose e quindi vai a vedere cos'è ma questo poi non l'ho fatto non l'ho rifatto eccetera quindi è una nuova cosa che devi cancellare quindi secondo me questo è proprio un contro e quindi devo qui devo eliminare il documento l'altro contro che qui si manifesta maggiormente è questo quando io sono qui che crea un video quindi crea un video questi programmi qui che sono semplici ma a volte anche complicati ti spiego brevemente allora importo un video io voglio editare un video lo vado a prendere da qui ho registrato il video lo voglio mettere insieme qui c'è il video chissà qual è adesso che ne ho preso uno a caso dei tanti che ho nel mio computer qui c'è il video vedo le cose faccio i tagli il sistema eccetera eccetera e magari lavoro per un bel po intanto questo vi questa cosa qui è già salvata per cui se sono furbo almeno gli do il nome quindi lo chiamo prova tecnica così almeno so che la prossima volta lo posso cancellare senza guardare cos'è oppure lo chiamo beh prova tecnica va bene dai prova tecnica così questo video sarà salvato come prova tecnica questo non va sulla nuvola perché qui la nuvola è barrata va nel mio computer chissà dove ma va nel mio computer e la nuvola qui a pagamento il programma di microsoft è gratuito ma dove c'è il diamante significa che è a pagamento quindi volendo potrei spendere qualcosina e avere delle funzionalità in più che a me non interessano in questo caso comunque io di solito quando faccio i video parlo un bel po quindi vengono belli lunghi sistema tutto un po a posto poi mi dico ah caspita aspetta che lì lì quel pezzettino lì volevo fare un esperimento volevo girarlo cambiarlo aspetta che allora lo taglio poi volevo andare qui girarlo o rimpicciolirlo un pochettino o fare qualcosa eccetera e a volte dato che questi programmi qui hanno infinità di funzioni tu dopo che hai fatto tutto ti sbagli e dici no aspetta ho sbagliato caspita non ci ho pensato aspetta che torna indietro se torna indietro bene ma a volte non torna indietro perché quello che hai fatto è fatto da 5 6 passaggi tu hai sbagliato e tu ti sei rovinato tutto il lavoro perché prova tecnica nel frattempo è stato salvato quindi se io dopo aver combinato un guaio in questi casi sono sempre guai grossi e non riesco a rimediare prima potevo semplicemente chiudere riprendere il salvataggio che avevo fatto man mano manualmente io e ero a posto adesso invece non posso più farlo se io volessi fare questa cosa cioè mi dico ok dai sono arrivato qui aspetta che faccio un esperimento a parte il fatto che quando faccio questo esperimento penso sempre di essere capace di faccio gli schiaccioli taxi e invece poi ti accorgi che no non eri capace e hai fatto un guaio quindi ti accorgi troppo tardi che hai sbagliato perché pensavi di saperlo fare invece non è così e capita a tutti e quindi è difficile dirsi fermi tutti adesso vado in una zona paludosa aspetta che mi sistemo comunque se entro nell'ordine di idee di questa zona paludosa dovrei fermarmi qui dire ok prova tecnica fin qui è a posto chiudo tutto così viene salvata o meglio è già stata salvata chiudo tutto perché così ricomincio allora vado di nuovo in clip jump trovo la prova tecnica adesso quando me la apre trovo la prova tecnica e la duplico quindi faccio crea una copia perché così ho fissato un prova tecnica che è questo e da qualche altra parte ci sarà anche la copia speriamo che sia saltata fuori adesso e vado a cercare la nuova dove sarà io l'ho duplicata però qui non si è vista forse ci vuole anche un po di tempo vedi che qui c'è civita un minuto e copia di civita un minuto questa la copia non c'è provo ancora dai facciamo un'altra così salta fuori tre o quattro dopo crea una copia lui qui sembra fare io sta copia non la vedo ma si sarà e allora chiudiamo riapriamo dove menù di avvio clip jump microsoft e jump perché questo programma fa cose complicate quindi anche la coppia può essere presa pesante da fare ci può volere del tempo probabilmente e adesso due copie di prova tecnica sono dovuto uscire rientrare eccetera ok allora una delle due non serve a niente tasto destro elimina si elimino la copia e sono qui questo è l'originale situazione pronta ma non finita questa è quella nuova che posso eventualmente pasticciare quindi vado avanti qui perché voglio adesso fare il famoso esperimento quindi perdo un sacco di tempo mentre prima mi bastava premere sul dischetto salva e quindi fin qua è salvato adesso da adesso in avanti se faccio un guaio posso chiudere e ritrovo tutto pronto ritrovo tutto sano tutto a posto qui invece no devo fermarmi devo uscire creare una copia e poi andare avanti sulla copia e quando è tutto finito devo ricordarmi di tornare là e dire che allora quello buono adesso è la copia perché quello finito è quello che è diventato la copia se io ho lavorato su copia di prova tecnica e ho finito perché è andato tutto bene prova tecnica non mi serve più quindi un documento doppio finito a metà lo devo cancellare perché sennò occupa spazio e sennò mi fa confusione quindi elimino il documento doppio e a questo nuovo do il nome giusto però da qua non posso rinominarlo come faccio rinominarlo vabbè lo devo aprire di cui posso rinominarlo vediamo lo chiamo prova tecnica finita forse forse ce la caviamo in un altro modo vediamo premo qua salvato vediamo questa cosa perché forse ho imparato intanto che ero qui con te qualcosa di nuovo allora click jump lo apro no copia di prova tecnica e prova tecnica finita dove finito forse non gli ho dato il tempo insomma vedi che non è così immediata la cosa se io premo su salva nel mio rischetto sono già sono già a posto allora provo a chiudere e riaprire perché magari ci vuole un po di tempo sempre pallini microsoft clip jump si tratta solo di adeguarsi è nel senso che no qua non c'è nel senso che una volta che uno sa come funziona poi trova la soluzione però in questo caso è trovare una soluzione a qualcosa che funzionava già bene se io cambio il nome allora qui sono curioso di sapere queste cose le puoi sapere solo se le hai provate nel senso se quando ti servono deve funzionare al cento per cento devi aver provato prima prova tecnica finita premo invio qui io vedo il nome lo avrà salvato non lo avrà salvato in teoria dovrebbe salvarlo questo prova tecnica finita però non lo so se salti fuori se ci voglia del tempo eccetera e quando siamo qui poi ti fanno diventare anche un po più furbo nel senso che non è che c'è qualcuno che ti dice come si fa questo come si fa l'altro tu cominci a fare in un modo e poi fai così fai così fai così poi dopo hai l'illuminazione diceva no se invece di così faccio leggermente in maniera diversa trovi il tuo sistema fai esperienza e impari questo che volevo mostrarti io è il modo un po diverso su cui di salvare su cui stiamo andando strada facendo perché clip champ fa così cap cap che un altro video edito fa fa così e più volte mi sono trovato a darmi del salame perché sapevo questa cosa ma ecco il prova tecnica finita stavolta lo ha fatto quindi ci si può gestire in questo in questo modo si può si può ragionare in questo modo qui c'è un po di lasso di tempo per cui adesso avendo visto questa cosa potrei pensare di fare in un altro modo no alla fine no perché io lui ha cambiato nome al documento come quando ho scritto prova tecnica finita mentre invece io avrei voluto che lasciasse un documento vecchio cioè io ho bisogno di lasciarmi indietro un documento vecchio e andare avanti con un documento nuovo finché non è finito allora dopo sono a posto bene dai spero che si sia capito abbastanza questa cosa qui e faremo tutti quanti esperienza su questo nuovo modo di salvare presumo che finiremo abbastanza abbastanza spesso e abbastanza presto in questa situazione perché adesso le aziende stanno andando verso un software in streaming cioè nel senso tipo click jump puoi lavorare direttamente dalla nuvola cioè tu si vai si accedi eccetera eccetera non te lo fanno più mettere nel tuo computer o meglio molti software non li puoi più mettere nel tuo computer ma li lavori online questo da loro modo di farli funzionare meglio di modificarli costantemente eccetera ma anche di darti un accesso solo se ne hanno voglia loro a un certo punto quindi insomma questo è il nuovo orientamento va bene dai oggi ho parlato un sacco vediamo la vostra le vostre chat per cercare di capire che cosa avete detto e che cosa magari mi avete suggerito quindi torno indietro sulla riga beh non c'è tanto da dire perché ho parlato a raffica allora filippo dice daniele si vede si sente molto bene grande filippo grazie benedetto sei al buio dice forse no perché se si vede si sente bene io sono sì in questa illuminazione ma è più o meno quella solita mi sembra forse ne fosse effettivamente ragione benedetto e ho fatto tutto il video con una luce abbassata esatto 123 dovevo alzarne l'ha un'altra quindi grazie benedetto peccato che ho letto il tuo messaggio alla fine comunque dai l'importante era più quello che dicevo di quello che si vedeva di me quindi grazie comunque intanto siamo qua così si vede che sudo anche ragazzi che c'è un caldo atomico qua dentro allora andrea grazie dice sebastiana dice puoi dire in poche parole semplici guarda come è stata specifica in cui puoi dire in poche parole non impiegarci troppo cosa sono i driver e dove si trovano sui nostri computer ok niente bisogna guardare guardare i video se tu cerchi driver as maggiolina driver trovi tutti i video i driver comunque sono programmi quando tu attacchi al tuo computer un accessorio anche solo il telefono lo attacchi qua ci scotta il telefono questo accessorio per funzionare ha bisogno di un programma che dica al sistema operativo in questo caso a windows come si utilizza come funziona quella cosa lì che cosa deve fare attacchi la stampante al tuo computer windows non la sa usare c'è un driver c'è un software che informa windows su cosa deve fare perché la stampante stampi di solito questi accessori hanno il loro driver quindi hanno un dischetto oppure viene scaricato da internet insomma c'è un software aggiuntivo che si aggiunge al computer per dargli le istruzioni è una guida driver possiamo possiamo dire tradurlo in guida che guida il computer windows a gestire uno strumento nuovo questi driver ci sono anche per componenti interne del computer ad esempio sappiamo che il nostro computer è una scheda madre cioè è una piastra principale dove ci sono dei componenti tipo il processore eccetera e su questa piastra vengono infilati degli dei componenti aggiuntivi tipo la scheda che serve per visualizzare i video per visualizzare lo schermo quindi lo schermo adesso a me viene mostrato da una cosa che si chiama scheda video è un componente hardware di varie case viene infilato nella scheda madre del computer e quello mi mostra le cose che io vedo questo questa scheda video è un componente è dentro il computer ma è un componente e windows per saperlo usare ha bisogno del driver delle istruzioni su come si usa quella specifica scheda video se le istruzioni sono chiare precise perfette per quel modello lì allora la scheda video funzionerà al massimo delle sue funzionalità se le istruzioni non sono le sue perché windows con durante l'aggiornamento ti ha mandato le sue dice ma io la conosco quella scheda video lì dai dai usiamo le mie istruzioni tanto fai così se le istruzioni non sono le sue quel componente non può funzionare in maniera perfetta così come è stato realizzato per le potenzialità per cui è stato realizzato dall'azienda che lo che lo produce quindi l'azienda che lo produce ti dà il driver perfetto se quel driver lì viene sostituito perché viene cambiato e magari funziona lo stesso ma magari il computer è più lento magari c'è uno sfarfallio ma ci sono sempre problemi e lo stesso per la stampante è la stampante colori viene cambiato il driver perché c'è stato un aggiornamento e non stampa più in colori ma guarda non riesco più a fargli fronte e retro ma perché semplicemente non c'è il driver corretto e quindi non viene utilizzata a pieno ed è un programma che si mette e si toglie il dove sono è già più complicato perché sono nascosti all'interno di windows lì dovrei guardare i video sui driver per capire questa cosa come metterli e come cambiare di solito però tu il driver lo sovrascrivi nel senso che se per qualche motivo c'è un driver che non funziona tu semplicemente carichi il driver nuovo che va a prendere il posto di quello vecchio che riconosce il componente dicevo e ciao bello guarda dai sei sono tornato io adesso ti faccio funzionare bene e quindi copre il driver che non serviva e fa funzionare il componente con quello nuovo in passato e anche nel presente diciamo è una cosa una preoccupazione importante dei tecnici una difficoltà dei tecnici è proprio quella di gestire i driver perché serve a far funzionare bene il computer se tu li hai salvati quando funzionava bene tu o il tecnico diceva grande ci sono i driver lo possono riportare alla stessa identica condizione di quando funzionava bene se tu non li hai salvati quel driver bisogna andarlo a cercare e ce ne sono infinità e non ho detto che si trovi non ho detto che sia così facile quindi il computer magari torna a funzionare ma non come prima dici ma però prima è prima però non c'è più fare perché non c'è quel driver lì non lo trovi e finché non lo troviamo non si riesce a fare e quindi è una cosa importante da fare claudia ciao claudia buonasera a te anna ciao sono pronta ciao non ha scritto proprio così male io leggo pronta rocchi dice buonasera scusate ritardo ciao rocchi edo il canale ce l'ho ma non lo uso non ho mai pubblicato nessuno video per quasi tutti abbiamo un canale youtube senza saperlo ma dici vuoi tanto non mi serve e quindi nel caso di edo era un bloccaggio o qui come moderatore secondo me o quando abbiamo fatto le condivisioni eccetera magari per visci aspetta che cancello ha bloccato non lo so maurizio buonasera a tutti i maggiolini ciao maurizio flora flora ha cominciato un discorso in chat prima allora daniele volevo mettere un numero di emergenza sul cell a no un altro discorso daniele volevo mettere il numero di emergenza sul cell come come il mio così poco è la mare il modello mi viene questo messaggio impossibile modificare il formato quando il doppio orologio è attivo cosa faccio non lo so il doppio orologio è attivo perché il tuo cellulare sarà italiano però vede che tu sei in una nazione che non è l'italia quindi lui dice e ti dà il doppio orologio perché ti dice sei all'estero in realtà tu magari risiedi in quella nazione io lo so ovviamente e quindi non so come come fare questa questa cosa non mi è mai capitato bisognerebbe dirgli no guarda che la mia nazione di origine questa e non e non l'italia quindi anche se sono di lingua italiana però ragazzo io abito qui quindi toglimi questo doppio orologio il doppio orologio serve per eventuali come si chiamano fusi orari però non ho tanta esperienza su questo ne abbiamo parlato l'estate scorsa il cellulare all'estero ma non abbiamo detto come fare a dirgli che risiedi in quella in quella nazione lì perché non lo so in sostanza non mi è mai capitata questa cosa luciano dice buonasera daniele un grosso saluto ecco dall'islanda grande paese meraviglioso anche se ci siamo sorbiti una serie a però anche ok vabbè però tutto bene mi fa piacere adesso poi magari sei andato avanti col messaggio perché un massimo di caratteri comunque grande se sei lì bello bello saperti lì secondo me c'è più fresco lì da te grande bello ti invidio un po è allora poi andiamo a vedere roberto dice ciao daniele buonasera a tutti gli amici di maggiolina ogni tanto riesco anch'io a seguirti in diretta grande 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 roberto grazie per essere qui maurizio c'è un nuovo aggiornamento a windows 11 oa se ne sono un sacco io non sto mai a guardare a me si l'ha fatto prima di solito me li fanno sempre di mercoledì che io poi ho la diretta e dico ma funziona non funziona dopo ma niente di niente di che nel senso che quello che è stato fatto non è un cambiamento di cose varie di cose importanti un cambiamento tangibile sono i soliti aggiornamenti di sicurezza di correzione di varie cose eccetera franco ciao daniele ea tutti francesca dice grazie al tuo consiglio da un po di tempo cioè da un po di tempo anch'io duplico i video in clip jump certo che non è poi così semplice corre molta manualità mi fa piacere ciao romolo ciao ben 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 arrivato anche se in realtà sei qui da un po' ciao francesco salvatore sei numero uno grazie xdr clip jump quanto costa clip jump è gratis da windows 10 in avanti dopo un aggiornamento è sbucato fuori clip jump diversamente se non ce l'hai nel tuo computer puoi andare sullo store di microsoft a prendere questo clip jump è gratis funziona bene ha delle funzionalità intelligenti perché anche un'intelligenza artificiale a me piace un sacco l'ho trovato comodo non sono uno facile nel video editor nel senso che non mi piacciono mai i video editing diversi da quello che uso io questo qua mi piace clip jump secondo me è semplice il giusto ma con funzionalità professionali che ti permettono di fare un bel lavoro moderno soprattutto a poche stelle quindi si vede che la gente non è contenta però a me piace l'abbiamo usato nella serie abbonati e mi piace e magari vedremo qualcosa anche per tutti però bello oltre a clip jump mi piace cap cap nasce principalmente per smartphone ma c'è e quindi secondo me è il top per lo smartphone se devi fare dei piccoli video delle o degli editing con lo smartphone o con il tablet tablet è più grande quindi meglio ma con lo smartphone tutti quelli che viaggiano e fanno i video così che editano fanno tutto col cellulare secondo me usano cap cap per lo meno quelli che conosco io sì perché è gratis e perché fa un lavoro e greggio sufficientemente professionale ma facile da usare e gratuito entrambi hanno una funzionalità professionale nel senso che tu puoi dire ok voglio quel filtro lì voglio quella cosa quello si paga non so cosa cosa costi ma te lo dice quando ci premi sopra vedi quanto costa e quindi può valerne la pena se lo usi tanto se vuoi certe funzioni però entrambi questi stelle 4 e 6 vedi per cap 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 entrambi questi sono validi e mi piacciono poi michele dice ho sentito che lo faranno con il sistema operativo microsoft sulla nuvola si infatti quello di spostare windows sulla nuvola e quindi non lo so se mi avete seguito se mi seguite sapete che io adesso ho preso il computer quello super economico e ho detto dai ci metto dentro windows 11 perché così adesso questo computer è mio se lo porto via almeno windows 11 se devo fare un video che sono fuori dal mio studio lo faccio con quello e quindi ci sono i video eccolo qua installazione pulita di windows 11 date un'occhiata quindi ci prepariamo e il video che uscirà o venerdì o domenica state sintonizzati parlerà dell'installazione del windows 11 sul mio computer super economico non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta e quindi bene però vi anticipo già che nonostante windows 11 sul mio computer super economico funzioni bene secondo me funziona anche quasi meglio di linux se devo dire la verità sapete che adesso che prima avevo linux zorin e si dice sempre che ha linux il computer più veloce eccetera Windows 11 secondo me funziona meglio sul mio computer super economico lo vedo più sprintoso più bello eccetera eccetera però sono già tornato a linux quindi ho voluto tenermi il doppio sistema operativo quindi a casa Windows perché windows è quello che è ma su un computer super economico linux è andato bene per tutto l'anno ok ci ho messo windows bello mi piace sono molto tentato eccetera ma poi questa sera sono già ritornato a zorin come mono installazione solo lui e andrò avanti così però date un'occhiata al video su come si installa windows sul computer super economico perché abbiamo dovuto superare degli ostacoli che secondo me vale la pena di sapere saper vedere e saper fare allora poi Filippo ciao Daniele ah ecco è lui che ci diceva ah no Michele dice in futuro Microsoft ho letto qualcosa anch'io in merito ha intenzione di spostare tutto sulla nuvola quindi il sistema operativo non è il tuo computer ma è sulla nuvola quindi non lo so ma sarà il futuro Filippo dice ciao Daniele che Microsoft Office hai tu allora non uso Microsoft Office l'ho usato ho fatto vari video l'ultimo che avevo in mano era il 19 Office 19 adesso ormai non c'è più neanche quello c'è Office 365 in abbonamento e va più che bene ed è anche secondo me una buona cosa nel senso che paghi relativamente poco ecco hai la nuvola di Microsoft in questo caso col pacchetto Office eccetera si può fare il famiglia e via è un bel è un bel prodotto un bel sistema perché Office Excel Word eccetera sono il top di funzionalità funzionalità mega spaziali però io adesso uso diciamo l'Office chiamiamolo così gratuito di Google quindi in Google Drive c'è il Google documento c'è Google Fogli per fare Excel c'è presentazioni eccetera io che di solito vado di Word e di Excel o comunque appunto di Google documenti Google Fogli e di qualche presentazione in PowerPoint vado sempre così vado tutto col pacchetto Google perché come vedrai nella serie Google Fogli tu lo usi con qualsiasi strumento è già pronto c'è apro il mio cellulare posso modificarlo posso cambiare delle cose cioè è talmente semplice la cosa è gratis e fa tutto magari Excel avrà sicuramente delle funzioni super mega speciali ma chi è che le sa usare tutte o a chi servono? quindi se sei un super mega aziendale ma sei molto tecnico perché poi alla fine si l'azienda Excel ma poi chi lo usa è così tecnico da sapere estrarre tutto pochi secondo me però in quel caso fa tutto ma io preferisco Google Fogli a questo punto e poi non è detto che non sia tecnico semplicemente non lo so usare così in maniera avanzata lo sto usando adesso i comandi sono uguali a Excel così come Google Documenti è uguale a Word cioè il modo di usarlo è lo stesso e ci sono delle cose in più delle funzionalità diciamo parallele da imparare a usare comunque per me adesso l'Excel e Google Fogli e quindi il mio pacchetto Office Excel e Google Fogli documenti e se devo scrivere qualcosa Google Documenti oppure WordPad di Microsoft qui sul mio computer ma Google Documenti è più versatile alla fine questa cosa della nuvola per questo tipo di documenti qua mi risulta molto più pratico perché lo cellulare tablet ma computer ovunque io sia posso farlo poi dico va aspetta che lo condivido con così anche lei può fare quel lavoro è veramente è veramente il top secondo me ed è più diffuso rispetto al pacchetto Office perché anche col pacchetto Office puoi fare tutto online eccetera poi la nuvola di Microsoft ce l'ha il mio collega sul suo cellulare sull'Apple no quella di Google invece sì quindi alla fine si fa prima gli dici guarda dammi il tuo account Google ti condivido il documento e poi lui si arrangia perché sa fare quindi questa è la mia scelta non è detto che sia la cosa migliore allora poi Anto che ore sono? beh abbiamo ancora tempo Anto dice Daniele su Linux è nato Ubuntu per emulare Windows 11 ci puoi dare un'occhiata sul tuo portatile super economico? allora sì perché l'ho appena rimesso a posto il mio portatile super economico però sì Ubuntu l'ho già guardato non l'ho provato ma l'ho già guardato e sono stato tentato di installare questa cosa e magari lo farò per adesso mi sono detto aspetta che il computer super economico lo riporto a Linux lo rimetto in funzione perché non si sa mai che magari un weekend sto via un lunedì eccetera voglio avere un computer funzionante però questo Ubuntu è di fatto Linux con l'aspetto di Windows 11 quindi guardando le foto a Windows 11 è bello perché l'interfaccia è familiare e quindi diceva che devo dire che quando gli ho messo Windows nel mio computer super economico mi sono sentito un po' a casa però di fatto è un Linux Linux Ubuntu sotto e il neo di questo Ubuntu è che pare non lo so perché finché non lo provo non lo so che l'interfaccia Windows 11 stile Windows 11 sia poi a pagamento cioè che chi lo ha creato di fatto ti ha dato un Linux l'ha modificato, l'ha personalizzato in maniera tale da sembrare un Windows da sembrare fuori ma dentro è tutto Linux e che quindi poi dopo chieda qualche soldo ma poca roba per usare l'interfaccia e ci sta quindi Linux è sempre libero ma se ci sono delle modifiche particolari qualcuno può vendere queste modifiche e quindi non lo so se lo proverò mi ero detto vabbè dai non subito però si va alla ribalta adesso questo Ubuntu che è Linux con l'aspetto di Windows Enzo dice però mi sembra un po' ipocrita nel senso per questo che mi sono detto ma non so lo vediamo, non lo vediamo mi sembra un po' ipocrita usare Linux e deve somigliare a Windows da fare nel senso che alla fine è sempre quello però capisco che abbia un suo appeal Enzo dice Tutorial Clipchamp costa la licenza Windows 10 o 11 che hai? Allora non ho capito Enzo Allora Windows 10 o Windows 11 deve essere installato nel computer quindi devi avere la licenza ma attenzione che il computer deve essere anche adeguato a far funzionare Windows 11 Ormai ce l'abbiamo insieme al computer e quindi te lo trovi già così però la licenza mi sembra che costi 145 euro la licenza di Windows 11 guardavo recentemente se non ricordo male comprata dove si deve sito ufficiale eccetera eccetera poi non lo so non ha senso secondo me comprarlo da di fuori del computer conviene comprare il computer con già Windows 11 dentro ma non lo comprerei per Clipchamp proverei a vedere se Clipchamp funziona anche per versioni precedenti di Windows comincia a diventare difficile secondo me se è un Windows 7 o cose varie ma non spenderei soldi su un computer da Windows 7 per andare più avanti perché non lo regge cioè comprerei direttamente un super economico con già la licenza potrebbe essere ad esempio un computer Windows S si chiama che è un Windows limitato solo alle applicazioni Windows che costava quando ho preso il mio super economico sotto i 200 euro in un negozio decente nel senso che ti fanno un buon prezzo quindi 200, 210, 220 quindi 145 di licenza e non sai se un computer funziona almeno un super economico se vuoi spendere poco ma almeno funziona perché è nato apposta il super economico poi quando cominci a usarlo ti dici che ci sono dei compromessi perché poi voglio fare cose specie sui video che magari con uno un po' più carico fai prima, fai meglio, fai in maniera più veloce quindi non lo so Clipchamp ok mentre invece CapCut è gratis quindi a quel punto se il problema è Clipchamp prenderei CapCut e andrei gratis con quello Aldo, amici, forza con il mi piace grazie Aldo poi Rocky dice VirtualBox non funziona come mai non lo so in che ambito mi stai chiedendo ma è tantissimo che non uso VirtualBox quindi non saprei comunque risponderti Francesca dice mi spiego meglio non è così semplice realizzare un video con Clipchamp sì e no nel senso che non è così semplice realizzare un video in generale se vuoi farlo bene adesso vedi un sacco di video su YouTube dici ma voglio fare anch'io quella roba lì e poi quando lo sai di che la fai non è così semplice Clipchamp adesso comunque ha la funzione e anche qui si aggiorna da solo per cui va bene questa cosa qui alcuni l'hanno avuta prima alcuni l'hanno avuta dopo tu ti ritrovi le nuove funzionalità crea un video con l'intelligenza artificiale che fa dei bei video secondo me questo fa dei bei video anche solo per avere l'idea cioè io la fantasia e la capacità tecnica di mettere insieme un video come quello come quello che può fare l'intelligenza artificiale di Clipchamp è proprio è proprio grande me lo farei fare da lei se quando adesso perché io faccio i miei video questi e quindi non viene ma se devi fare il video bello da TikTok o il video delle vacanze con vari spezzoni eccetera lo fai con l'intelligenza artificiale viene spaziale e ci impiega un minuto a farlo neanche e poi se proprio modifico quello bisogna saperlo usare un attimo quello sì ma non c'è non c'è niente di più facile e altrettanto professionale lo so perché me lo chiedete da tanto tempo c'era Windows Movie Maker tutti sono innamorati di Windows Movie Maker perché era semplice facevi i tuoi video eccetera ma adesso non c'è più adesso vogliamo di più dai video ma vogliamo che sia facile quindi troviamo qualcosa di facile ce ne sono tanti di programmi facili ma dopo ma devo ruotare ah ma devo far questo e no perché o è facile 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 oppure oppure devi saperlo usare Clipchamp secondo me è il meglio CapCut allo stesso livello l'intelligenza artificiale di Clipchamp mi piace di più ce l'ha anche CapCut l'abbiamo visto in un video abbonati però insomma sì secondo me sono sono allo stesso livello un po' uno un po' l'altro cerco di usare perché perché a volte mi risolvono dei problemi ad esempio per questo video che vedrete presto sul tablet che utilizzo la presentazione del tablet che utilizzo nel corso tablet mi ha salvato la vita nel senso avevo già registrato un video molto lungo Clipchamp mi ha sistemato le cose e poi dopo ho detto ok fine così prendo dentro nel mio video editor solito quello che Clipchamp ha fatto perché con quello sono più bravo e finisco però lui mi ha fatto cose che gli altri video editor non sapevano fare o come no perlomeno che io non ero in grado di fare con quelli in maniera semplice allora poi però Francesca ci stai lavorando quindi vedrai che ci sei e Creation dice ciao Dani ho preso un pc e ho avuto subito dei problemi io penso che sia un Windows 10 aggiornato a Windows 11 ma come faccio a sapere quale sistema operativo ha di fabbrica ritornato dall'assistenza era Windows 10 e allora lo sai già che era che era un Windows 10 perché l'assistenza probabilmente ha ripristinato il sistema di fabbrica se però nel tuo computer c'è stato un Windows 11 Windows 11 dovrebbe ricordarselo dovresti poter fare l'aggiornamento però se poi va qualcosa storto ti ritrovi che dici caspita adesso come faccio a rimettere tutto quanto come prima e purtroppo l'assistenza di solito è più sbrigativa nel senso ti ridà il computer così com'è la licenza e magari non è tornato perfettamente come vorresti tu nel video che è uscito quello in cui parliamo dell'installazione di Windows devo dire che ha funzionato tutto quindi quello che uscirà sabato o domenica e poi quello dell'installazione pulita di Windows della settimana scorsa il mio computer era un senza Windows quindi comprato super economico senza Windows ci ho messo dentro Windows è andato tutto bene non ho dovuto fare niente di particolare solo una piccola parte difficile che ho mostrato nel prossimo video che uscirà però ha funzionato tutto bene serve nel mio caso comprare la licenza se una licenza Windows 11 originale c'è già stata dentro nel tuo computer può darsi dico può darsi perché la situazione bisogna vederla proprio personalmente potrebbe anche già riconoscerlo nel senso che Windows riconosce un computer su cui è già stato quindi tu hai rotto il tuo computer con Windows 11 viene rotto il sistema operativo non hai ripristino non hai niente vabbè scarichi Windows 11 lui dice ma qui c'era già c'ero già io a posto riconosce l'hardware e in qualche modo sono collegati e ti fa andare avanti se ti hanno messo Windows 10 un motivo ci sarà bisognerebbe capire qual è il motivo e poi decidere se andare avanti oppure no Silvana dice cosa ne faccio del mio Windows 7 che è di fermo e niente ormai niente niente non voglio fare battute perché so che gli vorrei bene e che dici ma funzionava perfettamente e adesso niente se lo usi lo usi così com'è per come funziona è chiaro che se hai già usato computer più avanti non riesci a usarlo perché io le faccio queste cose nel senso che ho un sacco di computer vecchi eccetera ma se io accendo un mio Windows 7 non riesco a usarlo perché già solo il tempo che ci impiega ad accendersi mi dico ma caspita però niente in sostanza neanche se lo regali fai bella figura secondo me non è è così ormai è andato io quando sono vecchi vecchi dico smonto qualche pezzo forse l'hard disk ma non vale la pena di smontare niente neanche quello allora Rocky dice a me non funziona più non so che cosa mi sta dicendo perché io adesso ho perso il filo diceva Rocky VirtualBox ok e non lo so a volte capita di dover reinstallare nel senso che il sistema operativo è andato in crash per qualche motivo ti tocca reinstallarlo però non lo so io ce l'ho qua ancora non l'ho aperto adesso ormai è tardi magari lo proverò Andrea dice alt più tab come serve dipende per passare da cose da una cosa all'altra tengo premuto alt do un colpetto su tab lui mi dice adesso tu eri nel sito amici di Maggiolina se lasci il tasto alt che sto tenendo premuto finisci in clipchamp se premi di nuovo tab vai in live streaming una schermata che io ho sull'altro schermo se premi di nuovo tab vai a finire su OBS studio che è un altro software che ho sull'altro schermo se continuo a premere posso passare da uno all'altro quindi così vado in clipchamp lascio alt clipchamp premo alt colpetto su tab tab ah no ho sbagliato colpetto su tab torno ad amici di Maggiolina alt tab clipchamp alt tab Maggiolina alt tab clipchamp eccetera passi velocemente da una schermata all'altra senza toccare il mouse e quindi di solito in generale nel computer alt tab serve proprio per passare da una parte all'altra del tuo computer allora poi ci salutiamo Sabrina ciao Daniele ciao a tutti Anto dice io ancora Windows 7 che va molto bene dice e fino al 23 giugno mi ha rilasciato aggiornamenti mi ha rilasciato aggiornamenti erano bugie perché dicevano che non avrebbero fatto più aggiornamenti e poi invece sono andati avanti di più ma è sempre così che vanno avanti di più è un di più che ci danno quindi non lamentiamoci va bene ragazzi a posto ci vediamo in diretta mercoledì prossimo mi raccomando un mi piace al video mi sono dimenticato di dirlo ma i mi piace sono tanti grazie iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per noi è importante e grazie ragazzi per super chat super sticker abbonamenti eccetera per noi sono fondamentali non dimenticatevi da noi di noi in questo perché sono importantissimi ci vediamo mercoledì prossimo ma già domani siamo sul canale con qualcosa d'altro saluto ecreation che mi dice io l'ho comprato che era windows 11 poi il negozio me l'hanno aggiornato me l'hanno aggiornato windows 11 ma adesso non posso fare più ripristino di fabbrica se lo faccio mi esce sempre windows 10 e non lo so bisognerebbe vedere però se c'è stato windows 11 secondo me puoi ripristinare direttamente windows 11 ok ciao ragazzi allora vado a schiacciare i bossanti giusti che sono questi buona serata a schiacciare i bossanti giusti Grazie a tutti